Eccoci qui, siamo tornati a detto da voi, abbiamo detto voltiamo pagina, parliamo di quello che è accaduto, che sta accadendo un po' in tutto il mondo e quindi la volontà da parte dei contestatori di abbattere le statue, simbolo di razzismo, ma questa cosa ha raggiunto anche il nostro paese e ci si è concentrati appunto sulla statua dedicata al giornalista Indro Montanelli nella Giardini di Milano che proprio portano il suo nome Giardini di Montanelli e oggi la statua, ieri la statua è stata ripulita di quella scritta appunto che dice razzista stupratore e di quella vernice rossa che poi è stata gettata appunto da gruppi universitari studenteschi milanesi. Naturalmente le posizioni sono diverse, noi ci colleghiamo per questo con Daniele Martinelli, giornalista, blogger. Buongiorno Martinelli, mi senti? Buongiorno a voi, vi sento bene. Ecco che ha una posizione ben precisa e dall'altra parte abbiamo Silvia Sardone, eccola qua, lega e si trova, dove ti trovi Silvia a Bruxelles? Sì, in ufficio a Bruxelles. Ecco, perfetto, buona giornata anche a te. Allora, partiamo da Daniele Martinelli. Martinelli, tu hai preso una posizione molto forte sul tuo Facebook, allora parli proprio di un pedofilo, dici Montanelli è un pedofilo. Ma l'imputazione sarebbe quella al giorno d'oggi se un maggiorenne, a carico di un maggiorenne fosse accertata una relazione con una ragazzina di 12 anni, peraltro rivendicata nel tempo, non si è mai pentito Montanelli di questo, a parentesi di vita, Montanelli ha avuto una vita molto lunga, molto articolata, con posizioni anche diverse, anche contraddittorie. Un grande narratore del suo tempo, del Novecento, un grande giornalista che io apprezzo tantissimo e del quale nutro anche stima professionale, però da un punto di vista umano c'è questa macchia, certamente che non gioca a suo favore, anche perché questa relazione lui la ebbe ai fini anni 30, quando già in Italia era proibito avere relazioni con minorenni, lui era già un uomo adulto di 26 anni e il fatto che il suo Shumbashi, il suo cosiddetto maresciallo gli avesse in qualche modo consigliato di avere una relazione o comunque di essere sposato da una donna in quanto lui militare in Abissinia, ciò non toglie che il buonsenso di un uomo di cultura come lui, che già all'epoca era perché era anche là da inviato dal Corriere, non era un analfabeta, era uno che sapeva quello che faceva, ecco io credo che un uomo di buonsenso, giovane o vecchio che sia, non possa accettare di prendere in sposa una ragazzina di 12 anni per nessun motivo al mondo, men che meno adesso in tempi di Me Too, in tempi nei quali si parla tanto di rispetto, si parla tanto di violenza e soprattutto ci sono personaggi anche in vista come Dominique Strauss-Kahn, come il regista Oman Polanski che semplicemente per essersi macchiati del dubbio di essere stati degli stupratori, dei violentatori di donne si sono giocati la carriera, parliamo di donne maggiorenne, figuriamoci se una ragazza di 12 anni con quale consapevolezza, con quale maturità e con quale felicità può pensare di unirsi in matrimonio a un uomo anche se vive in Etiopia. Ecco, allora insomma tu dici, però voglio dire il gesto da parte dei gruppi studenteschi eccetera non è stato certamente bello, voglio dire non si risponde con la violenza a una situazione di quel tipo, ecco quindi qui stiamo parlando anche di questo, che simbolo è buttare, voler gettare all'aria una statua, macchiarla in quel modo, cioè è comunque un atto violento. Sentiamo Sardone su questo. Sì, dunque, allora, nelle parole che ho appena sentito c'era una giusta contestualizzazione e cioè era stato detto al giorno d'oggi. Quello che ha fatto Montanelli va contestualizzato con l'epoca dei fatti, dove le donne non avevano diritto di voto, dove il ruolo della donna era purtroppo, ovviamente Caterina noi oggi la vediamo diversamente, era purtroppo diverso e lo dico non giustificando determinati comportamenti, ma anzi ringraziando tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato negli anni affinché ci fosse davvero una parità di diritti e parità di opportunità, che ricordiamo ancora oggi in realtà non c'è Caterina, basta guardare i numeri dei ruoli di potere per capire che oggi… Che la lotta è ancora lunga per noi donne. C'è ancora molto da fare, però è altrettanto vero che ovviamente tutto va contestualizzato. Allora, se vogliamo partire dal presupposto che dobbiamo rimuovere anche dal punto di vista iconografico, tutti coloro che non rispettavano dei diritti oggi assolutamente garantiti, dobbiamo farlo per tutti. Allora dobbiamo togliere anche le vie dedicate a Marx o a Stalin o a tutte queste altre persone. A Milano, nel mio quartiere, mi viene in mente i giardini Franca Ramio, ricordiamole che si era detta vicino a Soccorso Rosso, quindi togliamo anche lei e togliamoli tutti. Io ho un altro approccio e cioè io terrei le statue di un giornalista importante per il giornalismo e la storia italiana come Montanelli, valutandone ovviamente sia le cosiddette opere letterarie, ma anche diciamo valutando i suoi comportamenti in maniera negativa, ma con gli occhi di oggi. Non toglierei le statue. Ricordiamo che in ogni caso io trovo scandaloso andare a rovinare statue buttando vernice o scrivendoci sopra cose. Questo non è il metodo. Cioè mettiamo anche conto che... Sì, su questo siamo d'accordo Sardone. Su questo siamo d'accordo però diciamo anche importante non dimenticare quello che è accaduto e stigmatizzare cose che anche 90 anni fa... vale anche per Marx, vale anche per Frank Arame, cioè ce le ricordiamo tutti. Va benissimo. Però allora se vogliamo iniziare a contestare ogni singola statua, può essere, allora apriamo un tavolo e rimuoviamo tutto. Io ne ho una decina che mi vengono in mente che andrai a rimuovere, no? Cioè ma non ha alcun senso, non ha alcun senso. E soprattutto non ha alcun senso imbrattare la statua. Ma ricordiamolo che dopo essere usciti dei ragazzi volontari, io ieri sono passata, ieri mattina e c'era Anza lì a ripulire tutto. Quindi abbiamo ripagato a noi cittadini la pulizia della statua. E sinceramente io non l'avrei mai toccata, non l'avrei mai imbrattata. Quindi anzi vorrei tanto che quei ragazzotti dei centri sociali fossero nati loro lì a ripulirla. Allora Martinelli, c'è stata anche la manifestazione ieri delle donne davanti al Palazzo Marino che ce l'avevano con la risposta di Sala. Sala ha detto che Montanelli la statua deve restare dove è. Montanelli è stato un grande e nella vita di ognuno di noi c'è qualche errore. Allora le donne hanno detto che gli stupri, la violenza non la possiamo derubricare come un errore. È stata un'iniziativa lodevole e devo dire oltretutto che mi meraviglia la posizione di Silvia Sardone. Sappiamo che il marito è il sindaco di Sesto San Giovanni e ha avuto il coraggio di titolare una via Bettino Craxi che anche con la parola statista sappiamo benissimo che fino a fatto Craxi sappiamo benissimo come l'Italia di Craxi è arrivata agli anni 90 e sull'esempio del fatto che se qualcuno corrompe un altro o fa finta di niente, di non accorgersi che c'è una corruzione, un giro di tangenti dovrebbe sapere appunto uno statistico che in questo modo favorisce qualcuno e svantaggia molti altri. Infatti la storia di Craxi ce la riconosciamo, infatti a Sesto San Giovanni c'è via Bettino Craxi. Quindi io posso capire che lo standard di sensibilità anche di qualche politico possa essere diverso dal mio. Ciò non toglie che le donne di Milano per loro che si sono presentate al Palazzo Marino hanno fatto benissimo appunto perché oltretutto io ti dico la verità avevo già scritto tempo fa, anni fa di questa iniziativa di dedicare una statua a Montamelli. Io da giornalista appunto perché nella sua biografia c'era questa macchia, questa grave macchia che non è minimamente paragonabile alle idee politiche di Carlo Marx che non si è mai macchiato di reati di pedofilia, tantomeno di Franca Rame che ricordiamo essere stata una donna di livello anche culturale e soprattutto integerima da un punto di vista della condotta morale. Poi uno può essere d'accordo o meno su tutte le sue scelte, però quando parliamo di reati sessuali ancora oggi vediamo che nella stessa Chiesa ci sono dei provvedimenti di Papa Bergoglio retroattivi addirittura su Vescovi o su grandi personalità, su grandi prelati che operano nel mondo, che si sono macchiati, vengono accusati da ragazzini e la pederastia non è diversa, attenzione, da un fatto come quello di cui Montamelli si è macchiato. Lo stesso Papa rimuove tutti questi Vescovi e non ne rimuove la memoria. E certo, poi ci sono personaggi che hanno fatto scelte discutibili. A Milano abbiamo la Via Generale La Marmora, che sappiamo essere stato un criminale che si macchiò di un massacro a Genova. Abbiamo Piazza Luigi Cadorna, che sappiamo essere passato alla storia per la più grande disfatta, la più grande caporetta italiana, uno dei più grandi successi militari. C'è via Enrico Cialdini a Milano, in zona proprio vicino a Tele Lombardia, non lontano da lì. C'è via Enrico Cialdini, questo qua era uno che massacrava i meridionali. Allora, se vogliamo fare la cerita delle vie, guarda, io sono in geografia e non so quanto ne vuoi. Però un conto è storicizzare una guerra, che è discutibile, un conto è storicizzare un massacro dovuto da una guerra in quei periodi in cui magari l'Italia era divisa per bandi e non era ancora il paese unito che è oggi. Un conto è un giornalista che consapevolmente sposa una dodicenne, se ne vanta fino a fine vita. Questa roba qua è una cosa gravissima e non è degna di un uomo di cultura. Va bene, su questo io in parte sono d'accordo, però sicuramente, ma ti lascio rispondere Silvia dopo la pubblicità perché così poi andiamo avanti fino a quando ci salutiamo. Tra poco. Grazie. Riparto da te. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Silvia Sardone voleva rispondere a Daniele Martinelli che appunto metteva l'accento anche su una via intitolata Craxi appunto dal marito di Silvia Sardone, sindaco di Sesto San Giovanni. Silvia? Guarda, Caterina, mentre le ascoltavo riflettevo su quanto lavoro c'è ancora da fare per avere davvero la parità tra uomo e donna. Cioè, per criticare un mio ragionamento, Martinelli che si prodiga alla difesa delle donne, come lo fa? Lo fa contestando una scelta fatta dal padre dei miei figli. Cioè, scusami, ma contesto alla mia. Siamo qua io e te. Ti rendi conto quanto è dura ancora il lavoro per la parità, per fare in modo che una donna venga valutata per l'attività che svolge e per il ragionamento che sta facendo e non per le scelte del marito, compagno o altro? Beh, è in linea con quello che pensava lei, Silvia Sardone, il suo marito. Quindi è una questione proprio di scelte anche familiari. Io mi riferivo allo standard, allo standard di ragionamento. Poi contestate. Marx è ora un noto antisemita. Poi possiamo dire bravissimo, per me no, ma era un noto antisemita. Il dittatore Tito? Togliatti? Vogliamo parlare di Togliatti? Non c'è nessun avviattito al mondo. Gli orrori del comunismo? Franca Rani. Cosa c'entra? Dov'è l'avviattito? E' allo stesso soccorso rosso che difendeva i terroristi rossi. Lo dico perché qua c'è sangue versato nelle strade. Quindi quando parliamo di morte, persone ammazzate, persone trucidate, allora magari insomma iniziamo a toglierle tutte. Quindi Marx ha trucidato gli ebrei, vogliamo dire questo? Guarda, abbiamo tutte, abbiamo via Stalingrado, via Carlo Marx, le abbiamo tutte, no? Cioè togliate. C'è anche via Stalox per questo, esiste anche via Stalox. Allora, veramente, se vogliamo le togliamo tutte e cancelliamo la storia. Invece la storia deve esserci, deve essere sempre viva, in maniera tale che i nostri figli possano crescere nella piena consapevolezza di quello che è stato il passato, delle pagine rosa e anche purtroppo di quelle nere. Dopodiché, io ribadisco, vogliamo decidere di togliere delle statue? Io non lo condivido, ma è una scelta che si fa in democrazia. Non imbarattandole di vernice rossa. Ai cittadini di Milano non è stato chiesto se avessero voluto una statua dedicata a Milano. Silvia, Martinelli dice, ai cittadini milanesi non fu chiesto però se erano d'accordo sulla statua nel 2001, quando fu il sindaco Albertini a volerla. Ma guarda, io non lo so, dubito. Lo dubito perché fu chiesto sicuramente oggi, almeno io ti dico quello che succederebbe oggi. Oggi sarebbe una scelta che passa dal Consiglio Comunale o comunque dai municipi. perché generalmente, quindi vabbè, di essere cittadini, passa dalle aule elettive. Cioè i cittadini eleggono dei consiglieri che poi decidono in nome e per conto loro se intitolare o no delle vie o insomma mettere... Facciamo che sarebbe anche su Via Craxi e Sesto, per vedere un po' quanti apprezzano Via Craxi e Sesto. Se quando viene deciso di mettere qualche persona defunta nel famedio monumentale è una scelta che passa dal Consiglio Comunale. La stessa cosa quando si deve intitolare una nuova via, la stessa cosa quando si intitolano dei giardinetti. Quindi sono scelte che oggi passano dal Consiglio Comunale e immagino anche allora. Sentiamo una telefonata. Pronto, chi parla? Buongiorno, sono Anna da Milano. Anna, buongiorno, dica. Allora, Martinelli ha sempre delle espressioni molto forti. Io l'ascolto sempre molto volentieri, però lui è categorico lì sulla sua posizione e tutti gli altri condannati. La statua di Idro Montanelli. Allora, Montanelli è un personaggio di grossa cultura e su quello va comunque riconosciuta la statua dov'è. Le racconto una storia. Mio nonno aveva una compagna e aveva, all'epoca di Martinelli o poco prima, ma ha fatto due figli e questa donna ha fatto due figli e il secondo figlio l'ha fatto che aveva 16 anni. Questo vuol dire che un po' chiuse i costumi e la contestualizzazione di quel momento, così diceva. Dire che comunque si è pedofoli vuol dire prendere una ragazzina, violentarla contro la sua precisa volontà e farle del male. Ah, perché lei ritiene una dodicenne consapevole quindi che avrebbe nei suoi sogni di andare a letto con un uomo che è dal doppio della sua età, come lei? Allora, allora, oggi sì, oggi sì, ma ieri no? No, oggi, ma parliamo degli anni 30. Poi i 16 anni sono i 16 anni, non sono i 12. A 16 anni si è imputabili, a 12 anni no. Scusa Martinelli, fai andare da Sardone, la saluto perché parte poi la sua giornata appunto a Bruxelles. Io sento dalle campioni di riempire che una ragazza di 12 anni non può scegliere nulla. A 16 sì, è diverso. Tant'è che anche se si viene imputati per reati sessuali con un sedicenne o una sedicenne... Allora, io devo salutare Silvia. Grazie Silvia e buona giornata. Grazie, scusate, ma è un intervento di nove e mezza in commissione. Grazie, grazie, buon lavoro. Ciao a tutti, grazie, grazie a voi. Grazie a te. Allora, Martinelli, mi senti? Sì, dimmi. Ecco, allora, dicevamo, Anna diceva, insomma, io ho avuto un nonno che a 16 anni ha avuto un figlio e quindi paragonava la situazione di quell'epoca, in quegli anni. Io sono d'accordo con te, non è paragonabile, voglio dire, l'idea di sposare, comprare una sposa. Ecco, poi, al di là del fatto che per me le statue non vanno demolite, non vanno imbrattate, però quello è un episodio, veramente una macchia. Allora, io ripeto, io non sto facendo elogio all'episodio, io mi rifaccio all'iniziativa più che civile dei sentinelli, che hanno fatto una richiesta ufficiale a Palazzo Marino per rimuovere la statua di Indro Montanelli e i giardini a lui dedicati. E io sono pienamente d'accordo, perché per meritarsi una statua bisogna avere avuto una vita integerrima e soprattutto gli errori umani è normale farli, ma ci sono errori ed errori. Questo errore di Montanelli, secondo cui ha 26 anni, sposa una ragazzina di 12 anni solo perché uno gli consiglia di far così e se ne vanta, perché era bellissima, diceva oltretutto, e se la porta con sé durante il periodo di guerra e non se ne pente, soprattutto anche in età avanzata, perché ci sono interviste del 69, quando Montanelli era già un uomo col capello grigio, rivendicava quell'esperienza, non è un uomo che merita una statua. Lo possiamo ricordare per la sua grande cultura come ricordiamo altri grandi uomini di cultura che però non sono stati insegnati né di statue né tantomeno di vie o di cose così, perché hanno avuto purtroppo dei comportamenti riprovedibili. E se oggi Milano scopre questo dettaglio infanghante, grave, di un grande giornalista è giusto che la maturità di Milano sia in grado di decidere di tornare un po' sui propri passi e quindi di valutare seriamente, di rimuovere con rispetto questa statua e di non dedicare a Montanelli, chi ha sposato una 12enne, vie e piazze o statue. E abbiamo capito, Martinelli, ascoltami, allora, oggi il collega Gianluca Veneziani che spesso è nostro ospite di Libero, parte con una provocazione di questo tipo. Allora, perché non cancellare le vie dedicate a Pasolini? Che sappiamo essere un altro grande personaggio, un altro grande scrittore dalla moralità. Pasolini era uno che andava a caccia di ragazzini a Roma, lo sappiamo perfettamente, perché Pino Pelosi, quello che poi finì in galleria per il suo delitto, era un ragazzo di vita che aveva 17 anni caricato in piazza dei 500. Se la comunità ritiene che questo comportamento di Pasolini, che sfruttava il disagio giovanile di minorenni, che li pagava per farci sesso, perché di questo parliamo di Pasolini, e si sa, se secondo i canoni attuali è una cosa riprovevole ed è ingiusta, io ritengo giusto che ogni comune, ogni realtà locale, faccia i conti con la storia e decide se rimuovere anche questo amore. Io, se avesse fosse sindaco di un comune di piazza Pasolini, per questo motivo rimuoverei la vita. Non hanno epoche questi crimini, non hanno epoche, parliamoci chiaro. Pronto, vediamo se riusciamo a un'altra telefonata, velocemente, pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, un secondo signora, dica. Pronto, sono io. E lei? Beh, comunque ascolti, per quanto sia la statuosa dovrebbe essere tolta. Anche Pasolini, visto che ne avete parlato, anche qui dovrebbe essere cancellato. Certo, chiaramente. Tanta gente, diciamo anche gli attori da adesso, le dici o che cosa, sono stati accusati di struttare la carriera, anche lui l'ha fatto, poi si è levantata a tardi età, per cui non è che la cosa gli è dispiaciuta, eh. Perché avevo l'intelligente, non come quelli del, cos'era, in Etiopia, lui non era etiota, era italiano, sapeva le nostre osante. In Etiopia non poteva fare una roba così, lo sapeva. E va cancellata la statua, e anche Pasolini, visto che faceva tutta quella roba lì. Va bene, grazie signora, questa è l'opinione appunto dei nostri telespettatori, sempre cara qui, dobbiamo, non ce la facciamo, sentire un'altra telefonata. Martinelli, quindi la statua, secondo te, andrà rimossa, questa è la tua opinione. Secondo me sì, assolutamente sì, va rimossa, perché non è tollerabile che un personaggio che abbia fatto una cosa così in vita sua venga ricordato con un monumento. Un monumento è troppo ingombrante per ricordare un personaggio, ci vuole ancora più moralità per meritarsi un monumento. Io dico però, siamo arrivati a quest'epoca, cent'anni fa è accaduta questa cosa, ci potevamo ricordare prima, ma dobbiamo salutarci. Caro Martinelli, avrò piacere di ospitarti ancora. Ok, grazie. Io vi aspetto domani e vi lascio a Liviaronca. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.